Ciao ragazzi bentornati in un nuovo video di sfide creazioni rosa di mister pescatore in questo video vi mostrerò come completare la sfida creazioni rosa incontri principali che terminerà tra 6 giorni perciò affrettatevi a completare questo gruppo sfide creazioni rosa e relativo alle nazionali quindi vi dirò il nome di ogni giocatore in modo tale come sempre lo ripeto in ogni video voi sarete più veloci a terminare la sfida la prima sfida è Francia contro Portogallo i requisiti chiedono minimo un giocatore proveniente dalla Francia o dal Portogallo io vi consiglio di utilizzare i giocatori che già avete in rosa e di impostare la sfida relativamente ai giocatori che avete a disposizione state attenti con la fedeltà io ho acquistato vari giocatori che adesso vi mostrerò come Shevshank il portiere dello Shakhtar Donetsk poi abbiamo Vitao difensore brasiliano dello Shakhtar questi tre tedeschi ce li avevo in rosa e li ho inseriti sono Valentini aspettate un attimo vi mostro gioca in serie B tedesca del Norimberga dello Young Boys in non voglio dire la nazione svizzera campionato RSL non ricordo se svizzero o austriaco per quanto riguarda invece Jakob attaccante tedesco gioca in serie C tedesca per quanto riguarda il centrocampo francese De Minguet l'ho acquistato per 400 crediti P anche lui per 400 invece il difensore italiano del Chievo regione ce l'avevo in rosa ho acquistato invece il terzino sinistro del Chievo Renzetti a 250 l'esterno sinistro Ourega Ourega a 600 e l'attaccante Macedone Stoiano Stoianovski a 450 crediti inviamo la rosa ok ottieni un pacchetto argento maxi ottieni i premi andremo dopo a guardare tutti i pacchetti per quanto riguarda Italia contro Olanda i requisiti sono minimo due giocatori provenienti da Italia o Olanda numero massimo di campionati rosa 3 numero di club di rosa 4 minimo giocatore 1 raro giocatori d'argento il minimo non bisogna mettere i giocatori bronzo l'intesa deve essere 77 in questa sfida ho acquistato tutti i giocatori quindi non c'è nessun problema della fedeltà il portiere sportiello ok un po' scioglilingua che l'ho acquistato per 350 crediti per quanto riguarda il difensore del PSV in Doven 850 crediti Klaassen centrocampista dell'Ajax anche lui olandese 450 crediti invece Robben 750 chiamiamolo un esterno vabbè l'ala destra Kirk che l'ho acquistato per 600 crediti per quanto riguarda i giocatori provenienti dalla serie A abbiamo Bastoni che l'ho acquistato per 850 Masiello per 800 Sensi 800 Birachi per 450 Gervigno 750 e Cutrone infine per 400 crediti i prezzi sono un po' aumentati e inviamo anche questa seconda sfida ottieni un giocatore Argento Premium e andiamo in Spagna-Svizzera la terza sfida qui manca un giocatore devo inserire Gervigno comunque partiamo anche qui non c'è il problema non c'è il problema della fedeltà ho acquistato come portiere Tata Rosano per 350 crediti la formazione l'ho impostata su tutta la serie A mi sono dimenticato di farvi vedere i requisiti minimo un giocatore proveniente da Spagna minimo un giocatore proveniente da Svizzera massimo 3 giocatori dello stesso club minimo 2 giocatori rari minimo giocatori 9 d'oro e l'intesa deve essere 80 quindi Tata Rosano ho detto che l'ho acquistato per 350 Piccini per 350 Ayan difensore turco del Sassuolo per 750 Mancini 800 Criscito per 600 crediti ecco lo svizzero Froiler dell'Atalanta che l'ho acquistato per 450 e l'ho messo a destra per fare l'intesa con Piccini invece il centrocampista spagnolo secondo il secondo requisito di questa sfida Fabian Ruiz che l'ho acquistato per 1500 Lobontka per 450 Kulusevski per 700 e Milik per 850 crediti ora andiamo a comprare l'ala sinistra Gervigno Gervigno where are you? ok quindi lo compro va bene basta aggiungere Gervigno che poi lo compriamo immediatamente lo comprerò subito così vi mostrerò come completare la rosa va bene il prezzo massimo è 800 acquistiamolo immaginiamo no allora invio il mio club penso di aver speso il doppio comunque ok aggiungi il giocatore mio club ok bastava anche aggiungere un altro giocatore comunque epic fail abbiamo raggiunto i requisiti inviamo ottieni giocatori giocatori zinco premium l'ultima sfida i requisiti quali sono un giocatore proveniente dall'Inghilterra e ho inserito Young dal esterno destro inglese dell'Inter e un giocatore proveniente dal Belgio ho inserito Prodo il portiere della Lazio per quanto riguarda gli altri giocatori Prodo l'ho acquistato per 450 Young per 650 Glick per 650 Pezzella per 900 questo è un giocatore che ho inserito dalla rosa come potevo inserirlo anche anche nella precedente sfida però me lo sono dimenticato per quanto riguarda Parolo 650 crediti Orsolini per 400 Gaillardini per 400 Pellegrini 800 e Okaka per 400 crediti invece Sansone per 650 inviamo la rosa giocatore oro rari piccolo ok giocatore oro premium abbiamo 5 pacchetti andiamo a spacchettare ok quindi partiamo da questo qui ok va bene vado non lo conosco e inviamo tutto alla lista di trasferimenti vediamo se si può no va bene invia trasferimenti ok penso di aver impallato tutta 1 2 3 andiamo al prossimo pacchetto argento maxi e ok rico belga andiamo avanti vuoi arrivare ai pacchetti d'oro invia trasferimenti invia trasferimenti invia trasferimenti invia trasferimenti ferma invia trasferimenti invia trasferimenti ferma i pacchetti contratto sono utilissimi invia trasferimenti invia trasferimenti invia trasferimenti oh crediti di 500 e invia trasferimenti Conserviamo tutto Riscatta credit Ok Tre pacchetti rimangono Giocatori, orrorari Ok, adesso cominciamo Orrorari piccolo Cominciamo da questo Si fa sul serio Gonzalo Guedes Malinowski Va bene Uh, Ansufati Va bene Abbiamo Recuperato Alla grande Invia trasferimenti Invia trasferimenti Invia trasferimenti Invia trasferimenti E così via Giocatori Euro Premium Euro Zinco Giocatori Zinco Vediamo qua chi trova Torreira è passato all'Atletico Non lo sapevo Gonzalo Guedes È stata la seconda volta Allora Invia trasferimenti Invia trasferimenti Non lo sapevo No Vero Dai Arriviamo all'ultimo pacco Allora Questo qua in teoria Dovrebbe essere Buono Quindi un FIFA Please Ma c'è Ma serio Vabbè Come non detto Spero che Niente Spero che questo video Sfide e creazioni rosa Vi sia d'aiuto Lasciate un mi piace Ed iscrivetevi al canale Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti